Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Ed eccoci con un nuovo mese e come sempre andremo a vedere insieme alcune tra le più interessanti uscite previste per il mese di febbraio. Questo mese sembra essere parecchio interessante sotto certi punti di vista, non ci sono tante uscite, ma comunque ci sono dei titoli che sto aspettando con una certa impazienza e che non vedo l'ora di leggere. Ovviamente come sempre andremo a parlare sia di uscite estere che di uscite italiane e molto spesso purtroppo alcune di queste uscite potrebbero slittare in modo particolare come sempre le uscite italiane. Detto questo io direi che possiamo iniziare a vedere insieme queste nuove uscite previste per febbraio, ma prima facciamo un piccolo passo indietro e torniamo agli ultimi giorni di gennaio. Infatti ci sono dei libri che sono usciti appunto nell'ultima settimana di gennaio di cui nello scorso video non vi avevo parlato e che invece meritano comunque uno spazio molto velocemente tutto loro e quindi partiamo da lì. Tutte queste uscite di cui parleremo tra l'altro sono concentrate il 31 di gennaio, quindi un giorno abbastanza scoppiettante e che comunque potrebbe dare soddisfazione a tanti tipi di lettori diversi. Infatti la prima uscita di cui parliamo è La Corona di ossa di Jennifer Ellarmentraut. È uscito il 31 di gennaio per HarperCollins, si tratta del terzo libro della saga appunto iniziata con Sangue e Cenere che sono sicuro moltissimi di voi stavano aspettando con una certa impazienza e quindi appunto eccoci qua il 31 di gennaio è uscito questo terzo volume quindi lo trovate tranquillamente in libreria. Dipende quando questo video andrà su ma teoricamente lo trovate. Sempre il 31 di gennaio, questa volta per Rizzoli, abbiamo l'uscita delle Sorelle Hollow. Questo è un libro che devo dire io trovo molto molto interessante. Si tratta di un horror paranormal che devo dire a me interessa tantissimo e sicuramente gli darò un'occasione. Purtroppo la Rizzoli non ha lasciato quella meravigliosa copertina che era appunto la copertina originale però comunque sono molto contento che sia arrivato anche in Italia. Ancora una volta il 31 di gennaio, questa volta però per Mondadori abbiamo l'uscita delle Guerriere che sfidarono l'oscurità di Namina Forna, ovvero il secondo libro della dilogia credo iniziata con le Guerriere del Sangue d'Oro che io avevo letto, avevo trovato in qualche modo carino ma non credo leggerò questo secondo volume. Non lo so, comunque sa di fatto che appunto il 31 è uscito. E per concludere con queste uscite di gennaio abbiamo quella che io personalmente stavo attendendo di più e che non vedo l'ora di iniziare. Si tratta infatti della trilogia su Alessandro Magno di Mary Renaud. Quindi abbiamo l'uscita di questi tre volumi, il primo Fuoco dal cielo, il secondo Giochi funerari e il terzo Il ragazzo persiano con queste copertine che personalmente io trovo meravigliose, mi piacciono da morire, ma questa volta quello che mi spinge davvero verso questo libro è il suo contenuto. Forse molti di voi sapranno la mia grande passione e ossessione per la persona e il personaggio di Alessandro Magno e non vedo l'ora di leggere questa trilogia che spero sia una grande luce per questo 2023. Non vedo assolutamente l'ora di leggerla. E ora cominciamo con le vere e proprie uscite di febbraio e partiamo dal 3 di febbraio. Uscirà per meridiano Venice Underground di Jeff Vandermeer. Si tratta di una raccolta in cui sono contenuti quattro racconti, come tra l'altro dice anche il titolo, e in più il primo romanzo scritto da Jeff Vandermeer che appunto molti di voi conosceranno magari per la trilogia dell'Area X che io devo ancora finire di leggere, non vedo l'ora. Questa appunto è una sua nuova barra vecchia uscita, credo che in Italia questo primo romanzo di Jeff Vandermeer fosse ancora inedito, così come questi quattro racconti che potete trovare all'interno di questo volume. Molto interessante come uscita, non credo, lo leggerò perché di Vandermeer vorrei leggere altro. Questo non mi interessa moltissimo, però sono sicuro che per gli appassionati del genere e dell'autore sia un'uscita da non perdere. Questa invece io non vedo davvero l'ora, cioè sono particolarmente incuriosito da questo libro fin dalla sua uscita all'estero e finalmente arriva in Italia Dark Rise, il nuovo libro di C.S. Packard, ovvero l'autrice che forse molti di voi conosceranno per Il Principe Prigioniero. Uscirà il 7 di febbraio, quindi non dobbiamo aspettare tantissimo, e ovviamente per Oscar Bolt. Ora, in verità la trama è la cosa più banale che vi capiterà di trovare oggi in giro online, però comunque sono curioso di vedere che cosa ha tirato fuori la Packard con questa nuova saga. Infatti il libro è ambientato a Londra nel 1821, seguiamo Will, che è il nostro protagonista, un ragazzo che è in fuga dalle persone e dagli uomini che hanno ucciso sua madre e viene indirezzato verso questo ordine. L'ordine dei custodi che sono appunto questo gruppo di persone che preservano le memorie dell'umanità aspettando il ritorno del re nero. E in questo modo Will verrà catapultato al centro dell'eterna rotta tra bene e male, in un mondo ovviamente fatto di magie e leggende, dove a quanto sembra Will avrà un ruolo abbastanza centrale in tutta la vicenda. Come vi dicevo, la trama è davvero molto molto banale, niente di particolarmente impressionante, però sono davvero molto curioso di leggere questo libro della Packard, nonostante magari sarà una grande delusione. Non ho idea, però lo leggerò e sicuramente ne parleremo insieme sul canale. Altra grande uscita di questo febbraio 2023, sempre però Scar Vault, sempre il 7 di febbraio, la nuova edizione dell'Apprendista assassino di Robin Hobb. In questo caso però sarà l'edizione illustrata, fatta appunto all'estero per un anniversario del libro, non ricordo qua l'anniversario, un'edizione che io ho sempre desiderato e che ho tuttora in wishlist su Amazon perché la trovo veramente meravigliosa e quindi arriverà finalmente anche in Italia per Scar Vault. E sarà da questa edizione che finalmente inizierò a leggere Robin Hobb. Sicuramente infatti la troverete nella TBR di febbraio, non vedo l'ora, non vedo l'ora di vedere questa nuova edizione fatta da Scar Vault e che sono sicuro sarà meravigliosa e non vedo l'ora di leggerlo. E anche in questo caso ovviamente ne parleremo poi insieme. Teoricamente sempre il 7 febbraio e sempre per Scar Vault dovrebbe uscire Il Drago della Prima Legge di Joe Abercrombie. Non abbiamo ancora nessun tipo di annuncio da parte di Scar Vault, però appunto in giro si trova la scheda di questo libro e era stata annunciata precedentemente questa nuova edizione della prima trilogia all'interno del mondo della Prima Legge che devo dire io non apprezzo tantissimo, però sicuramente molto molto più bella rispetto alla scorsa edizione. Anche in questo caso dovrei ricominciare a leggere la prima legge, vedremo se nel 2023 riuscirò a ritagliarmi uno spazio appunto per questa trilogia. Sempre il 7 febbraio, una delle uscite estere sicuramente più interessanti per quanto mi riguarda previste per febbraio e si tratta di Seven Faceless Saints, di cui in verità abbiamo già parlato l'anno scorso nel video delle novità del 2023. Il libro è ambientato nella città di Ombrazia, una città che è in qualche modo governata dai santi e i loro discepoli e tutto il loro sistema è un sistema corrotto che la nostra protagonista Rossanna ha intenzione di smantellare in qualsiasi modo. Ed è per questo che vuole unirsi alla ribellione, la stessa ribellione in cui è presente Damian Venturi. È in questo modo che i due ragazzi dovranno collaborare per cercare di risolvere questi strani e misteriosi omicidi che stanno sconvolgendo la città e soprattutto portare a galla tutti i segreti e l'omertà che dilaga nella città di Ombrazia. Sembra molto interessante, ripeto, tra l'altro la copertina la trovo meravigliosa, mi piace da morire. Staremo a vedere, mi piacerebbe effettivamente leggerlo, non so se riuscirò a febbraio, comunque ci mettiamo un pin sopra perché è sicuramente una delle novità per quanto mi riguarda più interessanti per questo mese. Il 7 febbraio esce poi This Infinite Trees di Taeri e Mafi. Si tratta del secondo libro della saga iniziata con This Woven Kingdom che teoricamente nel 2023 dovrebbe arrivare anche in Italia per Fanucci, che io non ho intenzione di leggere. Ovviamente non ho ancora ben capito, tra l'altro, se sia una trilogia, una saga, una trilogia. Non ho un'idea, ripeto, non mi interessa, però appunto uscirà il 7 febbraio, almeno all'estero. Ancora il 7 febbraio uscirà Stardust in Their Veins di Laura Sebastian. Si tratta anche in questo caso del secondo libro della serie iniziata con Castle in Their Bones. Devo dire che questa è un'uscita young adult molto interessante. Laura Sebastian prima o poi, ecco, mi capiterà di leggerla perché comunque è un'attrice che con i suoi libri mi intriga particolarmente, poi non saranno niente di che, però un'opportunità vorrò dargliela, staremo a vedere quando e perché. Il 14 febbraio esce poi il nuovo libro di Roshani Cioschi, che molti di voi conosceranno per la trilogia di The Guild of Wolves, I Lupi Dorati, in Italia. In questo caso si tratta di un romanzo molto diverso dai soliti libri proposti dalla Cioschi, perché infatti è il primo libro per un target adulto. E stiamo parlando di The Last Tale of the Flower Bride, che, devo dire, a me dalla trama non convince particolarmente perché è l'ennesimo libro in cui ci troviamo all'interno di questa mansion gotica in cui succedono cose strane. Si tratta infatti di un paranormal in cui seguiamo la storia di Indigo, questa donna che sembra essere in un matrimonio da favola perfetto, fino a quando però questo matrimonio smette di essere appunto un matrimonio da favola. Infatti Indigo e suo marito saranno costretti a ritornare alla casa dell'infanzia di lei, una casa misteriosa, ovviamente, una casa che nasconde dei segreti a cui lo sposo sembra non poter resistere, soprattutto per la presenza di questa ombra misteriosa che è Azur, ovvero l'amica d'infanzia di Indigo che è scomparsa misteriosamente. Ripeto, la trama mi sembra di averla già riletta tantissime volte, mi sembra la solita solfa riproposta per l'ennesima volta, non credo che gli darà un'opportunità. Magari si uscirà in italiano, perché no, però per adesso non mi interessa. Sempre il 14 febbraio per Queen Edizioni uscirà A Game of Retribution di Scarlett Sinclair. Si tratta del secondo libro della saga di Ade, che è appunto uno spin-off della serie principale, ovvero A Touch of Darkness, retelling di Persephone e Ade che io ho provato a leggere, non ha funzionato e che appunto non toccherò mai più, ma è una saga che comunque anche in Italia sta avendo un suo pubblico nutrito e quindi sono sicuro che sarà un'uscita molto interessante per alcuni di voi. Il 21 febbraio per Oscar Volt uscirà invece The Witch Heart. Si tratta di un romanzo che ovviamente, come la copertina lascia immaginare, prende ispirazione da quella che è la mitologia nordica. Anna dàci raccontare la storia di Angroboda, una donna, una strega che viene punita da Odino per aver condiviso delle sue predizioni sul futuro con le persone sbagliate. Quindi vedremo Angroboda a fuggire e nella foresta incontrare un personaggio misterioso che è Loki, il dio dell'inganno. E da questo incontro nascerà, sboccerà l'amore tra i due, un amore che porterà alla luce tre bambini, dei bambini molto particolari con un destino altrettanto particolare, estremamente segreto. Sicuramente un'uscita molto molto interessante che con ogni probabilità appunto andrò a leggere. Anzi, quasi sicuramente andrò a leggere. Tra l'altro io amo particolarmente tutto ciò che riguarda la mitologia, anche in questo caso nordica. La trovo molto molto affascinante. Questo libro mi dà delle buone sensazioni. Quindi in qualche modo, prima o poi, durante il corso dell'anno, gli darò un'occasione. Non credo riuscirò a leggerlo durante febbraio, ma credo che comunque proverò a metterlo in TBR. Staremo a vedere. Altro libro molto molto interessante che io tra l'altro non avevo mai visto e sentito, uscirà il 21 di febbraio per Modadori. Si tratta di un libro di Juno Dawson e stiamo parlando di Carne da Macello. E ci viene raccontata la storia di Yana, una sedicenne che ha sempre fatto molta difficoltà ad accettare questo suo aspetto estremamente androgino. E un giorno Yana verrà notata da questo talent scout che le propone di cominciare a lavorare come modella a Londra. In questo modo Yana entrerà all'interno del mondo del fashion e della moda. Un mondo sicuramente sfavillante e affascinante, ma dall'altra parte estremamente crudele. E da qua parte tutta la storia. Voglio assolutamente leggere questo nuovo uscita di Juno Dawson che tra l'altro è un'attrice a me sconosciuta, non ho mai letto niente di Juno Dawson e quindi sicuramente comincerò da questo che sembra davvero molto 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 interessante. Lo metterò sicuramente in TBR, spero che sia una lettura che comunque saprà illuminarmi. Mi immagino un libro effettivamente molto crudo, molto violento e molto spinto, quindi sono particolarmente interessato. Sempre il 21 di febbraio, un'altra uscita parzialmente interessante, cioè sembra interessante, vedremo che cosa ne uscirà fuori. E si tratta di Where Darkness Blooms, con questa copertina tra l'altro che io trovo bellissima, un quadro. La trama in verità è molto anonima, perché racconta di questa cittadina bishop, in cui le donne scompaiono misteriosamente, senza lasciare traccia. E infatti quando un giorno ne scompaiono altre tre, nessuno batteci io, perché è una cosa del tutto normale in questa cittadina. Poi però succede qualcosa. Durante il memoriale di queste tre donne, vengono portate alla luce dei segreti e le nostre tre protagoniste cominceranno a mettere in discussione tutte le loro credenze e soprattutto la loro città. Ripeto, una trama sicuramente non tra le più esplosive, però potrebbe essere molto interessante, molto criptica la trama, magari potrebbe uscire qualcosa di veramente interessante. Staremo a vedere. Il 28 febbraio, un'altra delle uscite che sto aspettando di più per questo mese, e sto parlando di The Adelon di K.D. Edward. Si tratta di una novella ovviamente ambientata all'interno della The Tarot Sequence. In questo caso, con questa in particolare, l'autore decide di cominciare questa nuova collezione di novelle, questa nuova raccolta, in cui appunto The Adelon sarà la prima, dove andremo ovviamente a vedere dei momenti specifici che nella saga principale non ci vengono raccontati. In questo in particolare seguiremo Max, Queen e Anne, che sono appunto dei personaggi secondari della saga originale, e li vedremo in una particolare situazione durante gli avvenimenti di The Hourglass Throne, ovvero il terzo libro della serie. Quindi per leggerlo ovviamente c'è bisogno che si sia letta tutto quello che è uscito fino ad oggi di The Tarot Sequence. Sono molto curioso di leggerla, non vedo l'ora e sicuramente aspettando i prossimi libri queste novelle molto veloci saranno particolarmente apprezzate. Ancora il 28 febbraio abbiamo The Wicked Bargain. Anche in questo caso devo dire un'uscita che sembra essere molto interessante, tra l'altro parliamo di pirati. Il nostro protagonista è Marleon della Rosa, un ragazzo di 16 anni, transessuale, non binary, un pirata che nasconde delle abilità magiche molto potenti, ovvero è capace di dominare il fuoco e il ghiaccio. Le sue abilità magiche però non bastano affermare il Diablo, che è venuto a riscuotere un debito che il padre di Mar ha stipulato diversi anni prima. Ora il Diabolo vuole l'anima del padre di Mar e quella di tutto l'equipaggio. Ed è così che nel trambusso generale Mar verrà salvato dagli ultimi pirati dei Caraibi e il Diabolo presenterà a loro una proposta. La loro anima per quella del padre di Mar altrimenti verrà perso per sé. Mar ovviamente rifiuterà questa proposta e da qui parte un po' tutta la storia. Ammetto che tutta questa ultima parte è un po' confusionalia, cioè troppi scambi, troppe anime richieste, eccetera, eccetera, però sembra un libro davvero molto molto interessante. Anche in questo caso copertina che io trovo meravigliosa, mi piace tantissima questo artwork. Sicuramente ci metterò un pin sopra perché sarà un'uscita a cui magari ritornerò tra qualche tempo, visto che secondo me potrebbe uscirci qualcosa di veramente molto molto valido, quindi staremo a vedere. Il 28 febbraio uscirà poi Immortality di Dana Schwartz che è il secondo libro della dialogia iniziata con Anatomy che da noi appunto è uscito a gennaio per Oscar Volt. Questo secondo libro arriva all'estero, sicuramente prima o poi arriverà anche in Italia. Io ancora devo leggere Anatomy, devo ancora capire se potrebbe effettivamente interessarmi, staremo a vedere, però questo secondo libro arriverà il 28 febbraio. Sicuramente poi una delle grandi uscite di questo 2023 nel fantasy e stiamo parlando di A Day of Fallen Night di Samantha Shannon. Questo prequel al priorato che finalmente vede la luce e che io devo essere sincero, sono molto curioso di leggere da una parte, da un'altra non me ne frega assolutamente niente. Sicuramente lo leggerò, aspettano la traduzione in italiano quando arriverà perché non ho intenzione di accollarmi un mattone del genere in inglese, come ho già fatto in verità con il priorato, anche se la Shannon scrive molto elementare, quindi è una lettura anche piuttosto scorrevole, però non ho intenzione per la mancanza di interesse di accollarmi tutte queste pagine. Vedremo il libro ambientato cinque secoli prima, gli accadimenti del priorato, che devo ammettere io, a me è un libro che ha particolarmente colpito, nonostante tutti i suoi mille difetti, perché ce li ha, sono anche piuttosto oggettivi, però è un libro a cui io sono molto affezionato da una parte e che secondo me ha comunque i suoi pregi, ecco. Quindi vedremo che cosa succederà con questo prequel, aspetterò comunque la pubblicazione italiana. Sempre il 28 febbraio uscirà poi Last Violent Call di Chloe Gong. È la prima delle due novelle che usciranno e che seguono gli avvenimenti di Full Lady Fortune, ovvero questo spin-off di This Violent Delight, che a me non interessa in verità in quanto spin-off Full Lady Fortune e ovviamente anche queste novelle non mi interessano. Però per tutti i fan della saga e del mondo di This Violent Delight è sicuramente un'uscita molto attesa. Questo è uno degli ultimi titoli che ho inserito all'interno di questo video, a cui inizialmente non gli avevo dato un euro, ma che invece dopo aver letto la trama, devo dire, trovo particolarmente interessante. E sto parlando di Night Birds, che uscirà ancora una volta il 28 febbraio. I Night Birds sono delle ragazze dotate di poteri magici, poteri magici che vengono anche concessi attraverso un bacio di queste ragazze. Quindi le persone possono avere delle abilità magiche proprio attraverso lo scambio di un bacio con queste Night Birds. La magia però è bandita, soprattutto la magia delle donne. E le nostre tre protagoniste sono le tre Night Birds della stagione, un po' come una specie di ballo delle debuttanti, una cosa che potrebbe essere trash, ma potrebbe anche avere dei risvolti interessanti. E il loro è... E il loro, in quanto Night Birds, hanno un destino già segnato, quello di sposare un signore della grande casa e poi diventare le madri della prossima generazione di Night Birds. Ma ovviamente i piani delle nostre tre protagoniste sono molto molto diversi. Scopriranno infatti che esistono altre ragazze come loro, altre ragazze che hanno dei poteri, delle abilità magiche potenti quanto le loro, e comprenderanno meglio cosa si nasconde dietro questo mondo che è stato costruito intorno a loro come se fosse una vera e propria gabbia. Devo dire che sono particolarmente incuriosito da questo libro. Sicuramente lo metterò in TBR a febbraio, cercherò di leggerlo a febbraio perché è una nuova uscita che secondo me potrebbe essere molto molto interessante. Nonostante la trama mi scuia un po' tante cose, sembra anche a un certo punto un po' di selection, eccetera eccetera, però potrebbe essere interessante, quindi vedremo che cosa uscirà fuori. E siamo arrivati all'ultima novità. Ce ne sono altre due, però non abbiamo certezza che usciranno, le citerò alla fine del video, ma appunto sono un grande punto interrogativo. E stiamo parlando per quest'ultima novità di Project Hail Mary, che uscirà il 28 di febbraio per Mondadori. Si tratta di un fantascientifico di una space opera che segue la storia di Reland Grace, che si risveglia in questa navicella a migliaia di chilometri dalla Terra. Il suo corpo è collegato a tantissimi tubi, non si ricorda chi è, da dove viene, perché è lì dentro e accanto a lui ci sono due corpi, anche loro addormentati. Poi però la memoria ritorna improvvisamente. Grace è su questa navicella con una missione, ovvero salvare il pianeta e l'umanità colpita da questi organismi che si nutrono della luce del sole e che sembrano porteranno a una nuova era glaciale. Quando uscì questo libro all'estero ero molto interessato. Ad oggi non credo che mi va tantissimo di sorbirmi un pippone del genere, quindi lascerò andare questa nuova uscita, però sicuramente per gli appassionati del genere è una novità molto molto interessante. E per concludere abbiamo queste due nuove uscite italiane che hanno una data in verità, ma non abbiamo notizie certe. Quindi adesso ve le dico, ma prendetele con le pinze, queste informazioni. Infatti la prima di queste due uscite è The Final Gambit, ovvero il terzo libro della trilogia che poi si trasforma in, non so, una saga immensa, iniziata con The Inheritance Games. Dovrebbe appunto uscire il 28 di febbraio per Sperling, ma non abbiamo ancora notizie certe. Quindi tutto con le pinze. E per concludere, questa volta parliamo di Mondadori, sempre il 28 di febbraio, un'uscita che sono sicuro invece molti di voi saranno aspettando con parecchia impazienza. E sto parlando di These Hollows Vams, che dovrebbe uscire appunto il 28 di febbraio per i Mondadori, ma anche qua non abbiamo notizie certe. Quindi tutto con le pinze, questo mix di Akotar e tante altre storie che appunto so, so che molti staranno sicuramente aspettando. Non lo so. Ultime novità, ripeto, ancora nell'incertezza più totale. Quindi vedremo. Detto questo ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Io sono sempre molto curioso di sapere qual è la nuova uscita che state aspettando con più ansia. Se ci sono ovviamente altre uscite di cui siete a conoscenza e che non ho citato all'interno di questo video, fatemelo sapere nei commenti. Io spero che questo video, come sempre, vi sia stato utile e che soprattutto vi abbia intrattenuto e divertito. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!